Buongiorno cari amici, buona giornata nuovamente, buon inizio di settimana. Andiamo di dire qualche cosa su Platone, tanto per iniziare il discorso anche con lui. Allora, abbiamo concluso la settimana scorsa con Socrate e abbiamo detto che Platone è uno dei suoi allievi, anzi è l'allievo prediletto di Socrate, per certi versi ne riprende proprio le idee, infatti non sappiamo fino a che punto parla Platone, fino a che punto parla Socrate nei dialoghi di Platone, però visto che Socrate non ci ha lasciato nulla di scritto, però dobbiamo anche dire che effettivamente ci sono degli elementi di divergenza con il maestro. Ad esempio Platone è più che convinto di sapere, di sapere anche molte cose, di saperle bene e soprattutto anche è convinto di poter insegnare agli altri. Certo, c'è il discorso della reminiscenza anche, oltre che dalla conoscenza. Ad esempio con il mito di Erre noi abbiamo già una forma di ritorno alla maieutica socratica per cui le nostre conoscenze vengono letteralmente fatte riaffiorare alla luce di scoperte che vengono fatte con domande articolate in modo che la nostra anima permette a noi di ricordare ciò che abbiamo visto nel mondo dell'iperuraino. Però è anche vero che è convinto Platone di poter insegnare all'altra persona, quindi di aver fatto già opera di reminiscenza piuttosto buona e quindi di poter davvero insegnare agli altri se non altro ad apprendere. Ecco, potremmo dirla anche con un linguaggio pedagogicamente moderno oggi. Ma più che sul pensiero, oggi ci soffermeremo su alcuni aspetti della sua vita. Intanto Platone non è un personaggio come Socrate che appariva anche piuttosto goffo, ma il destro non molto alto di statura, tarchiato, con naso camuso, schiacciato, con labbra abbastanza sporgenti. Ecco, Socrate sembrava un po' un satiro per come veniva rappresentato dagli artisti dell'epoca. Platone anche fisicamente si presenta molto diverso, è una persona di altezza decisamente medio alta. Sappiamo che nome tra l'altro gli deriva proprio, vuol dire largo di spalle, quindi gli deriva proprio dalla sua costituzione fisica. Aveva praticato anche il pancrazio in gioventù, quindi pancrazio sappiamo che è una forma di pugilato anche abbastanza cruento perché sono ammessi praticamente tutti i colpi ed era stato anche un campione. Quindi grande intellettuale, grande mente, grande cervello ma anche grande atleta. La vita di Platone si svolge in modo anche differente rispetto a quella di Socrate perché Platone intanto vive fino agli 80 anni circa e muore di morte naturale, una serie di febbri di non ben precisata natura che lo portano durante proprio gli ultimi giorni addirittura al delirio. Comunque è una figura molto particolare perché Platone vive nell'Atene che è stata praticamente sconfitta da Sparta e che ha dovuto sopportare il governo dei 30 tiranni. Infatti questo giustifica anche un po' la sua posizione in tema politico. Chiaramente un aristocratico Platone non vede bene né la democrazia né la tirannide, vede piuttosto bene un governo aristocratico. Infatti anche il fatto di dire che se soltanto il governo fosse stato condotto da un gruppo di filosofi, certamente Socrate non sarebbe mai stato ucciso. Ecco, questa è un po' la teoria del governo dei migliori. I migliori per lui non sono coloro che riescono a fare la scalata politica, ma sono coloro che effettivamente ci arrivano per merito perché sanno ragionare meglio rispetto agli altri. Quindi al limite è un governo, secondo Platone, governato da un re che si fa filosofo o da un filosofo che si fa re. Sappiamo che poi questi atteggiamenti in epoche più vicine a noi daranno conseguenze anche piuttosto nefaste, ma tant'è che nella sua epoca egli la pensava appunto così. Tra l'altro la sua fama di pensatore si divulga abbastanza velocemente e egli non diventò mai un politico di professione né diventò re, tanto meno, ma comunque divenne perlomeno consulente del re. Ecco, sappiamo che arrivò ad essere vicino, ad essere tra i consulenti del re. Quando si spostò a Siracusa, da Atene andò a Siracusa, allora Siracusa tra l'altro era anche una città molto potente dell'Allenia Grecia, e cercò di diventare il consulente del re. In realtà sappiamo che la cosa gli riuscì a metà o meno della metà, diventò soltanto uno degli amici di Dione, che era imparentato con il tiranno siracusano. Però il tiranno siracusano mal comprese il pensiero di Platone, tant'è che si convinse che addirittura Platone fosse andato là per spodestarlo dal suo trono, e a questo punto lo cacciò. E gli andò ancora bene, perché a quei tempi, certo la cacciata era ancora la soluzione, dopotutto meno peggio, si poteva rischiare ben di più. Ecco, in ogni caso diciamo che Platone vive tutta la propria esistenza alla luce di una ricerca che deve essere incessante, questo sul modello del suo maestro, ma il suo progetto è quello di poter comprendere e di poter soprattutto contemplare e di poter giungere alla comprensione di questo mondo delle idee che costituirebbe l'iperuragno, all'interno del quale ci sono tutti i modelli assolutamente perfetti delle cose, sia ideali, sia spirituali, e sia materiali, in modo tale che si possano comprendere tanto le realtà scientifiche, le realtà immanenti, le realtà quindi del concreto, quanto le realtà spirituali e anche e soprattutto le realtà politiche che contraddistinguono quindi la realtà sociale. Quindi il problema che si pone appunto Socrate è quello di creare una scienza della politica per poter far sì che si possa governare nel modo migliore possibile. Infatti una delle sue opere è appunto La Repubblica. La Repubblica di Platone è molto nota anche a coloro che non sono così addetti ai lavori. Questa era una prima parte, naturalmente anche sulla vita abbiamo detto davvero molto poco, proprio solo qualche passaggio, ma avremo tempo e modo, era un primo approccio quindi al filosofo, avremo tempo e modo di approcciarci senz'altro meglio e con più profondità al pensiero di Platone. Per il momento è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione e arrivederci ad un prossimo appuntamento con Platone. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.